Ben tornati e ben tornati con le previsioni a cura di MeteoOne. Un esteso vortice depressionario di origine artica ha conquistato l'Europa centro-orientale, dove si registrano anche le prime levicate fino in pianura. Sulla nostra penisola un blando promontorio anticiclonico ci protegge dalle correnti artiche, permettendo solamente qualche debole rovescio in un contesto più umite. Ma andiamo adesso a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per venerdì 4 novembre. Tempo generalmente soleggiato su entrambe le nostre due regioni. Qualche nube in più potrà presentarsi durante l'arco della giornata sui rilivi lucani, con scarse possibilità di precipitazioni. Temperature stazionarie sia nelle massime che nelle minime. Venti deboli e variabili con rinforzi dei quadranti settentrionali al mattino, solamente sul canale d'Otranto. Mari da calmi a poco mossi, mosso al mattino il canale d'Otranto. Come ci ricorda la regia, eccoci nuovamente con la foto del giorno. Ringraziamo oggi il nostro telespettatore e fotografo professionista Trono Cosimo, che ci ha inviato questo splendido scatto al tramonto della torre dell'Alto a Santa Caterina, nelle Cese. Si tratta delle numerose torre costiere che costellano il Salento e che in passato servivano come torri di avvistamento ai numerosi attacchi dal mare che questa terra ha dovuto subire. Probabilmente risalgono all'età normanna, ma la loro collocazione storica non è perfettamente definita. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleappula oppure alle mail che vedete in sovrimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.